gentili telespettatori buona giornata stavo leggendo un'intervista fatto dall'uomo dei rosari a un giornale chi è l'uomo dei rosari chi può essere il capitano coraggioso della lega dice così sentite sentite queste due prime balle iniziali tutti sono consapevoli che la forza del centrodestra è l'unità l'unità ma se sta distruggendo il centrodestra ma se continua a fare sgambetti a giorgia meloni lui e lui e berlusconi e mi parla che la forza del centrodestra unità prima balla accompagnata dalla concretezza dei programmi e delle idee seconda balla la concretezza dei programmi e delle idee giorgia meloni presenta il presidenzialismo da votare in commissione e berlusconi e salvini guarda un po diciamo che questi due partiti sono assenti e potevano essere sostituite le persone che erano assenti quindi affossano il presidenzialismo che ha presentato giorgia meloni che è una delle è uno dei programmi e nei programmi del centrodestra da sempre una delle cose più importanti l'elezione diretta del capo dello stato quindi la seconda balla è la concretezza dei programmi e delle idee quali concretezza e poi lui fa un esempio un esempio nazionale dice faccio un esempio nazionale che la tre la terza balla grazie alla fermezza della lega e alla compattezza del centrodestra di governo siamo riusciti a tagliare le accise dei carburanti e sono convinto vinceremo la nostra battaglia per pace fiscale e rotazione e rottamazione cartelle di equitalia uniti si vince uniti otteniamo risultati quindi lui si attesta e merito suo se hanno abbassato la benzina di quei 25 centesimi che poi colliva diventa 30 centesimi fino al 20 di marzo e merito suo altra balla e poi vinceremo le le battaglie per pace fiscale rottamazione cartelle di equitalia realmente realmente no perché non è nell'ordine dei idee di draghi quindi abbiamo svelato delle tre quattro balle di salvini di oggi però lui continua a fare la sua campagna elettorale di recente gli chiede il giornalista come argomenterà questa posizione al tavolo nazionale del centrodestra cosa risponderà meloni che rivuole a tutti i costi musumeci sostenendo la regola di coalizione dell'uscente ricandidato la regola di coalizione dice che chi esce e vuole ricandidarsi alla prelazione e salvini risponde faremo tutte le valutazioni del caso con serenità e come già avvenuto nel resto d'italia in generale l'unità del centrodestra non può essere messa in discussione con imposizioni e su alcuni temi rifiuti sanità infrastrutture turismo i risultati dovevano essere migliori quindi che cosa sta facendo salvini sta criticando musumeci che poteva avere dei risultati migliori e dice che a giorgia ribadisco che la scelta aspetta i siciliani e sono sicuro sarà d'accordo con me ma i siciliani scelgono quando c'è da votare non è che scelgono i candidati da mandare a votare salvini ma che cosa stai dicendo ti arrampichi sugli specchi no lui dice i siciliani sono sicuro che sono loro che scelgono sì ma il candidato del centrodestra centrodestra lo scelgono i politici poi gli elettori votano in base a chi ha portato alle elezioni il centrodestra quindi non lo scelgono i siciliani lo votano i siciliani che è diverso caro matthew e poi il giornalista è stato chiaro ma la regola del centrodestra della coalizione è chi è che se un politico uscente vuole ricandidarsi alla prelazione e lui dice faremo le valutazioni del caso ma se c'è una regola non ci sono valutazioni del caso le regole se ci sono vanno rispettate caro matthew salvinius le regole vanno rispettate quindi in tutto quello che vi sto raccontando in questo video si vede tra balle arrampicamenti sugli specchi atteggiamenti di nel tentare di prevaricare gli altri le regole che ci sono se nel centrodestra c'è la regola che chi si vuole ricandidare ed è uscente può ricandidarsi non è da mettere in discussione se nel centrodestra la regola è che il capo del centrodestra è quello che ha più voti non è che tu salvini puoi cambiare le regole secondo come ti fa comodo oggi e domani cambiarle perché ti fa comodo cambiarle in un altro modo ecco è un modo di far politica questo che a mio avviso agghiacciante ma gli elettori un po alla volta credo che riusciranno a distinguere politici da falsi politici arrampicatori sociali da da amministratori pubblici diciamo che nessuna rottura dice salvini con giorgia meloni ci vedremo e troveremo un accordo come è sempre successo e il giornalista gli dice ma a palermo il centrodestra è balcanizzato fratelli d'italia vuole candidare a tutti i costi varchi la lega propone scoma ma gli alleati del club prima l'italia hanno già in campo il centrista la galla con forza italia che sta per lanzare cascio come ribadito ancora ieri dal coordinatore regionale micciche e lui dice ritiene possibile la convergenza su un nome comune certo e la federazione è un passo per evitare divisioni e malintesi quella federazione dove nascondere all'interno il nome della lega perché la lega che si presenta alle elezioni in sicilia non la vota nessuno ovviamente ovviamente il partito di giorgia meloni fratelli d'italia in sicilia è molto forte potrebbe avere intorno al 25 per cento 26 per cento forza italia in sicilia se arriva al 10 per cento è tanto quindi ancor più ancor più se le regole non sono un'opinione se il candidato uscente che è praticamente con fratelli d'italia diciamo così e vuole ricandidarsi deve avere la prima relazione soprattutto se è spalleggiato dal primo partito italiano del primo partito del centro destra quindi vedo che ancora lontana la cosa che salvini deve farsene una ragione che non comanda più niente puoi comandare nella lega perché la lega salvini premier l'hai fondata tu non è più quella di prima ma l'hai fondata tu lì puoi comandare spadroneggiare ma per il resto non più arrivederci a tutti e grazie